Lei lavora sul Prato e quali sono state le sue disavventure con gli ungulati? Più che altro lavorando sulla piana di Prato ho delle disavventure con i piccioni più che ungulati. Abbiamo dovuto smettere di coltivare girasoli, una coltura da noi che viene molto bene, produce bene, resistente al caldo e alla seccità. A causa dei piccioni abbiamo dovuto cessare di fare questa coltura, proprio per i danni causati da piccioni. E come mai avete deciso oggi di essere qui in piazza a protestare così animatamente? Sì, perché vogliamo che siamo presi dei provvedimenti da questo punto di vista, cioè dove ci sono problemi di danni da animali, da ungulati, da piccioni, eccetera. Siamo presi i provvedimenti perché altrimenti non riusciamo più a fare reddito, vista la situazione problematica e abbiamo già con la vendita dei nostri prodotti a basso prezzo.